Faccio il debutto, all'onardesimo, riuscite a entrare sempre in fatto bene, insomma, come ti trovi qua? No, molto bene, ambiente, c'è molto bello, siamo stati subito alla grande. Scusa, Padesi, come diceva? No, no. Hai di nome? Eh, sono stati chiesti. Sarei che siamo appena arrivati. No, fanno un gruppo fantastico che ci ha accolto alla grande e per salvarci sempre anche questo. Un mondo diverso rispetto a un Monza. Tutti amici, un mondo completamente diverso. Non ho ricordato più il Monza? Monza prima maniera. Un altro ULTRA, che ho sentato oggi.